Musica Credete che i vostri ritmi intimoriscano il vostro cane? Musica Mi batti sempre Sam Allora non perdetevi le interessanti attitudini del Rhodesian Ridgeback Insegui gli uccelli? Si diverte a scacciare gli uccelli e mettere in fuga i malintenzionati Quando svolge il suo abituale turno di guardia sembra davvero molto feroce Sopporta cambiamenti climatici estremi, dal caldo torrido fino al freddo più intenso e resiste per più di 24 ore senza bere Ed infine non si lascia intimorire neanche dal re della giungla Dunque nessun problema per il Rhodesian Ridgeback Un cane che dimostra forza, senso del dovere e coraggio nello svolgere i propri compiti Caratteristiche lovevoli ma che non costituiscono l'emblema di questa razza dello Zimbabwe Che è invece rappresentato dall'ispida cresta di pelo che si estende lungo l'intero dorso Il pelo sul dorso cresce in direzione opposta al resto del mantello Formando come delle virgole che danno alla cresta il caratteristico effetto verso l'alto La cresta si sviluppa dalle spalle fino all'osso iliaco, all'altezza delle anche Si formano delle piccole virgole che hanno una forma simile ad un ferro di cavallo Queste spirali sono all'inizio della cresta Vieni qua bello, vieni qua Siediti, giù Questi nobili cani sono alcuni dei più straordinari atleti africani Ma Bascia e Cosa possono competere con il loro leggendario padrone? Diamo un'occhiata Andiamo, Cosa? Sia l'ex campione dei Pittsburgh Steeler, Lynn Swan, che i suoi cani amano stare all'aria aperta Oh oh, c'è qualcosa che si muove Ed entrambi sanno come raggiungere il bersaglio Quando decidono che c'è qualcosa che vogliono, trovano il modo per ottenerlo e sono anche piuttosto furbi Ed hanno persino una strategia migliore dei più famosi ricevitori Prendilo, Bascia, prendilo Magari stanno correndo in una direzione e poi tutta un tratto cambiano rotta Quando corrono, fanno come un piccolo rimbalzo dopo ogni passo E sembrano sempre allerta, pronti a rispondere ad ogni richiamo Se i Ridgebacks fossero i migliori ricevitori, da chi sarebbe formato il resto della squadra? Allora, vediamo un po' Quale cane potrebbe fare il quarterback? Forse potrebbe essere un colli Invece, come mediano o corridore difensivo, metterei un cane lupo Mentre un paio di grossi cani, come il San Bernardo, potrebbero stare oltre la linea Poi metterei dei Rottweiler come difensori, bloccatori difensivi e come difensori di linea Infine lascerei Doberman come marcatori e placatori E in panchina? Oh mio Dio, quale tipo di cane potrebbe essere un allenatore? Forse Mike Dicta potrebbe essere un Mastiff Un tempo avrebbe potuto essere un Rottweiler, mentre oggi sarebbe un Mastiff Lynn Swan, con i suoi quattro trofei del Super Bowl e un premio speciale come miglior giocatore è una leggenda nella storia dei Pittsburgh Steelers Ma per Lynn, i veri campioni sono Cosa e Basher Che state facendo? Vi mettete comodi, eh? A volte succede che di mattina presto o a tarda sera mi metto a pedalare sulla Ciclette e poi scendo a guardare la TV o dei programmi e loro sono contenti Infatti solitamente non gli parlo quando sto facendo ginnastica I Ridgebacks sono cani dotati di buon cuore e con la giusta motivazione possono correre anche per 30 miglia Pensando di farli esercitare un po' durante l'inverno Ho provato a farli camminare sul tapirulano, ma non gli è piaciuto, anzi lo detestano Preferiscono stare sdraiati in prima fila Sono più intelligenti di noi A noi non importa di pedalare e rimanere fermi Loro, se corrono, vogliono fare strada Lynn ha coperto migliaia di metri durante i suoi nove anni di carriera ma ora ha perso colpi Questo è suo figlio Schaffer Chi è che corre più veloce? Papà o Cosa? I cani di Lynn sono fedeli alla storia della loro razza sia per quanto riguarda l'abilità che per il nome Il nome Cosa proviene da una tribù nell'Africa meridionale, la vecchia Rhodesia e il nome Basha è il nome di un fiume che scorreva attraverso questo stesso territorio Gli abbiamo dato nomi storici importanti nella loro tradizione Nel 1924 fu fissato uno standard per le razze canine indigene e ribattezzarono questi figli dell'Africa col nome di Rhodesian Ridgeback ma i predecessori dei Rhodesian vagabondavano per le praterie molto prima del 1920 Quel che so riguarda gli antenati più antichi è che discendevano dai cani degli Ottentotti Gli Ottentotti erano una popolazione nomade che si serviva di un cane simile allo sciacallo per cacciare e così questi cani diventarono ambiti Molti uomini della tribù a cui appartenevano gli avi di Cosa erano esploratori e cacciatori Alcuni di questi cani cominciarono con lo sviluppare una sorta di cresta o di striscia lungo il dorso e gli uomini notarono che questi esemplari sembravano avere un'agilità maggiore rispetto agli altri cani Fu allora che decisero di allevarli al posto di altre razze Nel XVII secolo i colonizzatori europei in Sudafrica allevarono i Ridgeback insieme a magnifici danesi, mastini, levrieri inglesi o persiani Un noto cacciatore dell'epoca, Cornelius Barroyen, selezionò l'allevamento della razza che tutti noi oggi conosciamo come Rodijan Ridgeback Volete uscire? Nonostante la loro natura avventurosa, i Rodijan sono dotati di un temperamento pacato quando si trovano in casa È solo quando si recano all'esterno che danno libero sfogo alla loro vera natura Quando escono fuori si riappropriano dei propri spazi Sono molto indipendenti e quando decidono di muoversi semplicemente lo fanno Spesso vanno su per le colline e talvolta arrivano anche sulla strada Un giorno nostro figlio ha aperto la porta e Cosa è scappato all'inseguimento di un gatto, non è più tornato Allora ci hanno chiamato da una lega di protezione animali e ci hanno detto che qualcuno aveva trovato questo cane munito di targhette e collare abbandonato sul ciglio della strada e glielo aveva portato Siamo andati a riprenderlo e siamo estremamente riconoscenti alla persona che lo ha riportato anche se non ne conosciamo il nome perché non ce l'hanno detto Forse non vuole che si sappia però vorrei dirgli che io e la mia famiglia lo ringraziamo moltissimo Vieni qui! A ogni Ridgeback piace infrangere un po' le regole del gioco ma quando l'azione si spegne non vedono l'ora di finire e stare un po' in famiglia Pensate che un cane sia impaziente di accogliere il padrone quando torna a casa? Dov'è il tuo papà? Immaginatevelo moltiplicato per sette Ciao! E' una razza che allo stesso tempo ama aggacciare e passeggiare Bravo Cookie! E persone come Dave e Gene fanno parte del branco Andate! Fate una bella cosa! Quest'atteggiamento del branco dà luogo ad un allegro e festoso ululato Nonostante i Ridgebacks siano abituati a climi torridi non hanno problemi ad adattarsi il loro pelo diventa più fitto con l'arrivo del freddo Vieni tesoro! La loro giornata consiste in due ore di corse selvagge e 22 ore di riposo e tranquillità Mi piace avere un cane con cui poter andare a fare una passeggiata e che al ritorno crolla stanco sul divano Puoi trovarli ovunque ci sia qualcosa di morbido su cui appoggiarsi specialmente al sole E' quello che preferiscono Per questi segugi africani la casa dei Nixon è il paradiso ed è compito di Gene mantenerli allegri ed in salute Hai finito? Lo stesso vale per i cuccioli che questi allevatori sperano di crescere in futuro Il 3,5% nasce con un problema genetico chiamato fistola dermoide che può svilupparsi lungo la spina dorsale fino all'osso ocipitale La fistola dermoide è una cisti è un tubo che cresce sotto pelle come una sorta di follicolo che emerge e mette in comunicazione la superficie della pelle con l'interno fino ad entrare in contatto con la spina dorsale Un allevatore di Rhodesian può individuare questa cisti sottoponendo il nuovo nato ad un semplice test Si afferra a un lembo di pelle e tirando con delicatezza si fa scorrere la mano lungo tutta la schiena fino alla base della spina dorsale cercando qualcosa di anomalo Nel 90% dei casi le cisti dermoidi crescono proprio lungo la spina dorsale La cisti mette in comunicazione l'ambiente esterno non sterilizzato con la parte interna del cane causando infezioni non visibili a occhio nudo può essere asportata chirurgicamente se la spina dorsale non è già stata intaccata Vieni! Dopo diventa difficile ed anche pericoloso cercare di rimuoverla Le piace accompagnarmi in farmacia? Fortunatamente esiste una terapia sperimentale per la prevenzione delle fistole dermoidi Vieni qui! Ho molti ricettari da cui attingere ogni volta che devo preparare un composto Gina è una farmacologa per cui prepara lei stessa i medicamenti Ho provato che se si somministra acido folico prima e dopo la gravidanza diminuiscono le probabilità che nascano dei cuccioli affetti dalla fistola dermoide Ecco fatto Alcuni allevatori non sono d'accordo ma l'acido folico non è altro che vitamina B e non dà effetti collaterali Per questo do sempre l'acido folico alle mie ragazze quando decido di farle accoppiare e la ricerca dimostra che funziona Gin mescola il composto con un po' di formaggio in modo che non si senta il sapore di medicina è l'unico modo per farla inghiottire a Madison che ha 4 anni È alta cucina, altro che medicina Gin spera di far accoppiare Madison entro un mese Questa sarà la sua prima cucciolata Voglio che i suoi cuccioli siano sani Se Madison darà la luce ai cuccioli sani Gin manterrà un primato sorprendente Lei e Dave hanno fatto accoppiare due femmine e visto nascere più di 20 cuccioli e finora solo un cucciolo è nato con la cisti dermoide Andiamo, forza! Quando Steve Stein ha deciso che voleva un cane Sei pronto? Dai, salta! Ne ha cercato uno a cui piacesse stare all'aperto almeno quanto piace a lui Volevo assolutamente un cane da potermi portare dietro in ogni avventura Sebbene non sia un safari le uscite in bicicletta rinvigoriscono sia il ciclista che il cane Va bene amico, andiamo! Ok, sei pronto a scalare? Ah, cosa fai? Un Ridgeback può percorrere fino a 30 miglia a fianco di un cacciatore a cavallo Le 4 miglia da scalare oggi potrebbero rivelarsi una prova difficile per Steve ma non per Sam Andiamo! Neanche nel mio periodo migliore sono mai stato così in forma come lo è questo cane senza dubbio gli devo molto Beh, è molto vivace oggi È il giorno giusto per sudare e credo proprio che suderò anch'io parecchio E mentre uno suda l'altro fa una passeggiata È facile per te, eh? Ma questa è solo la prima escursione della stagione Forza! I Ridgeback sono molto in gamba e possono fare molte cose Vieni qui! Si adattano ad ogni terreno e senza bisogno del casco L'estate scorsa abbiamo fatto un'escursione di 28 miglia di mountain bike Ehi, Sam! Vieni, Sam! Oh, già sei stacco Alla fine della giornata tutti e due siamo distrutti I Ridgeback rimangono costantemente allerta mantenendo la posizione anche dopo ore di esercizi Siamo quasi arrivati Andiamo, Sam! Quasi arrivati! E nonostante l'altitudine Sì! Vieni qui, bello! Vieni qui! Bravo il mio ragazzo! Sono noti per la loro capacità nel coprire grandi distanze Sia che si tratti di ripidi valichi montani che di spinose pianure desertiche Arnicchiati vicino alla Rincon Valley in Arizona quest'area è il luogo ideale per una coppia di Rhodesian Ridgeback Questa è Daisy una femmina di due anni e mezzo Il maschio grande si chiama Jumbo e ha circa tre anni e mezzo Jumbo e Daisy si fanno una bella vita circondati da praterie simili a quelle della terra natia Di loro si prende cura un medico di fama mondiale il dottor Andrew Weil Pratico la medicina naturale e la prevenzione sanitaria ma insegno medicina integrativa all'Università dell'Arizona e credo che sia la medicina del futuro non vuole rinnegare quella tradizionale ma fa conoscere delle alternative Il dottor Weil è un medico per gli esseri umani ma il suo lavoro può essere utile anche per quanto riguarda i Rhodesian In questo paese c'è un energico movimento della cosiddetta olistica veterinaria che è promosso da veterinari che adoperano l'agopuntura specialmente con i cavalli ma anche con i cani e ho potuto osservare una risposta veramente positiva a questo tipo di terapie da parte degli animali Andiamo? Tra le raccomandazioni fatte per garantire una buona salute hanno un ruolo fondamentale gli esercizi quotidiani I Rhodesian Ridgebacks hanno bisogno di esprimere la loro energia altrimenti le loro menti così attive cercherebbero soluzioni diverse per stancarsi Questi cani adorano sia stare in branco che con i loro padroni È una passeggiata per vedere il comportamento che hanno Erano abituati a cacciare in branco Qualche volta mi è successo di trovarmi presso un branco di Ridgeback ed è stato interessante dire come si comportavano Uno di loro ha cominciato a tirarmi i lacci delle scarpe mentre un altro cercava di mordicchiarmi i talloni e un altro ancora mi spingeva su un fianco Lavoravano perfettamente in squadra e sono riusciti a portarmi dove volevano loro I branchi di Rhodesian affrontavano non solo i leoni nell'entroterra africano ma inseguivano leopardi bufali e antilopi spingendoli verso le loro trappole Le ampie distese africane offrivano un ben misero riparo ed è per questo che i Ridgeback sono divenuti silenziosi battitori questo gli permetteva di avvicinarsi furtivamente alle prede senza essere notati Un piccolo gruppo di tre Ridgeback avrebbe potuto affrontare un branco di cinque leoni Dopo aver preso di mira un felino a turno i cani lo avrebbero distratto e l'innervosito tenendosi però al di fuori della sua portata Sì, è stupefacente il fatto che gli basta scorgere da lontano una lincea o un cervo per partire come razzi nel deserto Jumbo! Ehi! Jumbo! Vanno su e giù per questo terreno impervio e pieno di cactus ma non tornano mai con delle spine addosso e sembrano sapere come fare Una razza dal passo leggero e dall'indole pacata Non abbaiano mai senza ragione Quindi fate attenzione se uno di questi cani abbaia Questa razza dura e tenace ringhia per spaventare sia i predatori che i malintenzionati Oltre agli esercizi adeguati i Rodician devono seguire una dieta alimentare per una media di 12 anni di vita Il cane che avevo prima ha vissuto 16 anni il che, e molto all'irà di ogni aspettativa era una cagna di grande taglia ha vissuto una vita sana anche fino a 6 mesi prima che morisse e credo che ciò sia dovuto in parte al fatto che viveva in un ottimo ambiente e che era amata inoltre per curarla le davo vari medicamenti e rimedi naturali gli do alcuni acidi grassi essenziali questo è un estratto di olio di pesce lo aggiungo a cibo in scatola di buona qualità a base di riso e carne di agnello Un giusto nutrimento aiuta a mantenersi in buona salute così come l'affetto di un animale nutre il cuore del suo padrone Sono molto colpito dalle loro qualità fermezza tranquillità calma e fedeltà sono molto ricettivi verso gli umani Il Ridgeback occupa buona parte della vita del Dr. Wiles ma altri preferiscono invece il suo antagonista per definizione Ho molti amici che hanno dei gatti e una volta ho detto a uno di loro la differenza è che se io rimpicciolissi fino ad assumere le dimensioni di un topo il mio cane mi riconoscerebbe e continuerebbe ad essere mio amico se questo succedesse a lui il suo gatto lo mangerebbe Per sfuggire alla ferocia degli artigli di un gatto sono necessarie delle grandi dimensioni ed un'enorme presenza di spirito in ogni caso sono stati necessari più di quattro secoli per selezionare la razza robusta e di dura tempra dello Zimbabwe Gli esploratori europei raggiunsero il capo di buona speranza all'inizio del XVI secolo portando con loro i magnifici danesi i mastini i blowdowns e altri dei loro segugi favoriti compresi i levrieri inglesi e quelli persiani fu allora che incontrarono le tribunative degli Ottentotti che utilizzavano cani addomesticati dalla cresta caratteristica quegli uomini non avevano mai visto cani simili prima d'ora ed infatti l'unica altra razza con questa peculiarità venne poi scoperta nel golfo del Siam quale tra le due sia la razza nata prima è tuttora oggetto di un acceso dibattito il Rhodesian Ridgeback dei nostri giorni è il risultato dell'incrocio tra gli esemplari portati dagli esploratori e di cani degli Ottentotti nei primi del Novecento in Sudafrica noti allevatori come Avendale Kennels diedero un valido aiuto alla diffusione dei Ridgeback ma solo nel 1932 questi si affermarono anche in Inghilterra in quell'anno infatti Jay Player debuttò con due dei suoi cani da caccia reali al National Kennel Show tenutosi al Crystal Palace verrà spontaneo credere che dopo avere visto un unico esemplare di Ridgeback li avete visti tutti ma i Rhodesian Ridgebacks hanno manti di colore diverso che sfumano dal grano chiaro al grano rosso alcuni di essi nascono addirittura senza cresta anche se questa è una prerogativa della razza cos'altro c'è da sapere? il Ridgeback guadagna 4 punti per la sua versatilità l'American Kennel Club li classifica come Segugi ma in altri paesi vengono considerati più come cani sportivi e da lavoro grazie al loro fiuto molto sviluppato per la salute 3 punti è necessaria una radiografia per diagnosticare un'eventuale displasia dell'anca o cisti dermoide per la difesa 2 punti 2 punti per le buone maniere questi cani amano scavare e questo potrebbe rovinare il vostro giardino ma in casa questi cani meritano 4 punti per l'adattabilità in casa si trovano al loro agio e non hanno gusti difficili nel mangiare sei pronto? andiamo dopo un pit stop ed un controllo ai cuscinetti non ha mai avuto problemi ma è meglio controllare giusto per essere sicuri che tutto sia a posto e che non abbia fastidi tutto a posto amico? gli amici d'avventura sono pronti per un'emozionante corsa giù per la collina guarda che zampa è in buona forma sei pronto per tornare a casa? andiamo su e nelle rare occasioni in cui è Sam a rimanere indietro Steve ha scogitato un sistema per permettergli di seguire i segni della bicicletta a volte quando siamo su un sentiero a Sam piace correre veloce ma a volte non si rende conto che andiamo troppo forti e così ho ideato un richiamo particolare è una vecchia espressione Cossack una sorta di pronti? via! la possente struttura del rodigian ridgeback e l'indole impavida fanno di questi cani una razza totalmente a sé via! state